Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa rubrica del commento del Vangelo di Domenica. Siamo sempre qui ad Argenio con Don Giovanni e commentiamo il Vangelo della Sesta Domenica dopo Pasqua. È il Vangelo di Giovanni e sentiamo appunto Don Giovanni. Come incontrare Gesù risorto? È una domanda che abbiamo tenuto aperto nell'approccio ai Vangeli di queste Domeniche di Pasqua e quest'oggi ci viene data una risposta decisiva anche per prepararci al mistero dell'Ascensione e poi della Pentecoste che celebriamo nelle prossime Domeniche. Incontriamo Gesù risorto nell'amore vicendevole e reciproco. Rimanete nel mio amore. Attenzione che Gesù non ci dice rimanete in un mio sentimento d'amore. Rimanete nel mio amore. Gesù ci chiede di amare perché Lui ci ha amati e ci chiede di amare come Lui ci ha amati. Lui rimane sempre il movente e la misura dell'amore. In questo senso ci dice rimanete nel mio amore. Rimanete nelle motivazioni, nel perché io vi amo. Rimanete nella misura del mio modo, della mia scelta di amore per voi. E qui devo dire che mi ha colpito subito, leggendo questa pagina di Vangelo, il riferimento che ha con uno dei grandi maestri spirituali, Ignazio di Loyola, alla conclusione dei suoi esercizi spirituali, in quella che è la contemplazione per ottenere l'amore, sottolinea due cose proprio all'incipit della contemplazione. Al numero 230 degli esercizi dice che l'amore si deve porre più nei fatti che nelle parole. Più nei fatti. Non esclude le parole. Ma l'amore è fattivo, è concreto. Ecco, l'amore manifesta Gesù risorto per la reciprocità che esige con Gesù e tra di noi. L'amore manifesta l'amicizia che ci è donata, un'amicizia che è partecipazione di vita. Gesù ci offre la sua amicizia partecipandoci tutto quello che il Padre gli ha comunicato. Quindi è un amore che porta a una condivisione, a una partecipazione. In questo senso invoca anche la nostra corrispondenza. Ma poi c'è un secondo passaggio che Ignazio di Loyola utilizza per introdurre la contemplazione finale per ottenere l'amore. Dice che l'amore consiste nello scambio reciproco di beni fatto con assoluto disinteresse e generosità concreta e vera. E' il numero 231 degli esercizi spirituali. Ecco allora perché è così decisiva la scelta di amare. È decisiva la scelta di amare perché l'amore manifesta Gesù risorto, perché testimonia la sua fedeltà verso di noi. Io ho scelto voi. C'è una presa di coscienza. Ce lo ricorda Giovanni nella seconda lettura di questa domenica. Non siamo stati noi ad amare, ma è Gesù che ha amato noi e ha dato la sua vita per noi. Gesù ama nella fedeltà piena, nella fedeltà totale. Buona domenica. Grazie. 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 Grazie.